Dal 7 al 29 ottobre Sant'Angelo Invado, alta valle del Metauro, apre le porte del suo antico borgo alla 54esima edizione della mostra nazionale del tartufo bianco pregiato delle Marche, confermandosi, dopo quella della piemontese Alba, la più longeva rassegna dedicata al tartufo. Un evento presentato presso la sede pesarese di Confcommercio, che con l'amministrazione comunale vadese ha avviato rapporti di collaborazione che sta già apportando dei risultati importanti. È un evento importante perché promuove un prodotto che può fungere da volano per l'economia della nostra provincia, di tutta la nostra provincia. È un prodotto importante perché attraverso questo si può anche legare una strategia politica per valorizzare il tartufo delle Marche e non delle singole località e quindi realizzare anche un progetto di marketing territoriale, di marketing turistico che leghi le città del tartufo della nostra regione. La mostra viene dopo che per un anno intero l'amministrazione comunale ha realizzato tanti eventi dedicati al tartufo, il tartufo tutto l'anno, quindi con le varie tipologie di tartufo ben presenti sul nostro territorio, per mostrare accanto al tartufo anche le eccellenze e le bellezze di un territorio che ha veramente dei prodotti straordinari come la Domus del Mito. Questa villa romana del primo secolo d.C. che è stata casualmente ritrovata sotto terra, un po' come casualmente sotto terra vengono trovati i tartufi. In questo anno c'è stata anche questa collaborazione tra il Comune di Sant'Angelo in Vado e la Confcommercio per la promozione e la valorizzazione turistica. Noi marchigiani abbiamo delle località straordinarie, abbiamo delle bellezze forse uniche, abbiamo dei comuni definiti piccoli ma che dirli piccoli è quasi offensivo dalle bellezze che contengono in termini di strutture archeologiche, di beni culturali eccetera. Abbiamo però il difetto e l'incapacità spesso di saperli promuovere e valorizzare. Magari aspettiamo che il turista arrivi alla porta del museo senza fare alcuna iniziativa per invertire questa logica. Ecco il Comune di Sant'Angelo in Vado invece ha pensato di affidarsi alla Confcommercio per un'azione di valorizzazione e di promozione nazionale e internazionale di questa località e mi fa piacere il fatto che accanto al Comune di Sant'Angelo in Vado ci sono altri comuni, Pergola con i bronzi dorati, Fossombrone con la quadreria Cesarini e la pinacoteca, il polo archeologico e ultimo il Comune di Mondavio con la sua rocca straordinaria che insieme al Comune di Urbino hanno deciso di affidare a Confcommercio l'incarico di realizzare queste iniziative di promozione turistica che noi abbiamo chiamato itinerari della bellezza nella bellezza della provincia di Peso Urbino e che diventerà il light motive di tutte le attività del prossimo anno ma che già quest'anno hanno visto Confcommercio essere presente in varie fiere a livello nazionale e internazionale a realizzare tante iniziative di comunicazione con l'obiettivo di creare la rete e di valorizzare e promuovere la rete dei comuni. Un'edizione green dedicata al tema dell'ecosostenibilità con un programma particolarmente ricco ed accattivante. Apertura degli stand il sabato dalle 15 e la domenica alle 9.30 con i vari punti della città che esalteranno ora con i commercianti, ora con gli esperti, gli chef e via dicendo, il tartufo bianco pregiato delle Marche, il re della terra e della tavola. Una 54esima edizione che s'allarga la regione custodendo sempre la sua specifica tradizione come evidenziato da Romina Rossi, vice sindaco di Sant'Angelo in vado nonché assessore al turismo, alla cultura e al tartufo. L'identità, bellissima questa parola, però bisogna dargli significato, riempirla. Che cos'è l'identità? È in grado di raccontare quello che c'è dietro, quello che c'è la storia, la cultura che ci contraddistingue. E bisogna scegliere le eccellenze. Le eccellenze per noi, una di queste è il tartufo, oltre al nostro patrimonio storico la Domus. Ma il tartufo come raccontarlo? Aspettare solo che arrivi il mese di ottobre per decantarlo? No. Noi abbiamo la fortuna di avere un territorio in grado di regalarci, mi piace questo termine, il tartufo tutto l'anno. È da qui che siamo partiti. Dal tartufo primaverile, estive, il tuber magnato un picco, l'eccellenza di questo tubero, fino ad arrivare al tartufo invernale. Abbiamo creato una serie di eventi abbinando il tartufo, la proposta enogastronomica, alla nostra cultura. Ecco perché è importante l'identità. Il tartufo veramente riesce a raccontare quello che siamo. Soprattutto se poi quello che siamo, siamo delle famiglie che dentro, ogni famiglia praticamente abbiamo la fortuna che ha in sé un tartufaio. Io stessa sono andata a tartufi, vado a tartufi. Questa cosa uno riesce a trasferirla, forse la passione solo se uno la vive. Il fatto di camminare nel bosco, il profumo, la gioia nel momento in cui uno può effettivamente, attraverso l'amico fidato che è il cane, trovare questo prezioso tubero. Tutto questo verrà riproposto nei nostri quattro weekend. Un percorso sensoriale. Ricostruiremo un bosco, non a caso, per riportare una parte di questa magia anche a chi avrà, avremo noi l'onore di ospitare e verranno a trovarci a Sant'Angelo in Vado. Attraverso questo percorso vorremmo raccontare la nostra storia. È quasi impossibile raccontare tutto quello che accadrà in queste giornate. Bisogna viverle, portarsi a casa un ricordo che sia materiale, come può essere un buon tartufo, un pezzettino di tartufo o immateriale come un ricordo, una sensazione, una percezione. Esatto, ed è proprio questo. Concludo proprio con questa frase. Ci piacerebbe che il visitatore vivesse un'esperienza, un'esperienza in grado di colpire la testa per arrivare al cuore. Questa frase sembra scontata, ma non è così. Se chi verrà a Sant'Angelo tornerà a casa con qualcosa, arricchito di qualcosa, sicuramente la nostra mostra avrà toccato nel segno. Siamo stati il primo comune, racconta il sindaco di Sant'Angelo in Vado, Gian Alberto Luzzi, ad aver creduto in questa logica allargata, che vuole che il tartufo sia un vanto dell'intera regione Marche e non solo di Sant'Angelo in Vado. Più rafforziamo questo concetto e più è possibile creare un appetibile volano economico internazionale. Noi ci siamo aperti al territorio, non solo intorno a noi, quindi intorno ai comuni nostri, ma al territorio regionale. Abbiamo subito detto che parliamo di tartufo delle Marche, perché questo grande prodotto della natura deve diventare una chicca nel mondo che porti il nome delle Marche dappertutto e diventi appetibile per tutti i turisti di tutto il mondo, che oltre ad avere la possibilità di assaggiare questo splendido prodotto nelle Marche, perché di quintali ne abbiamo pochi, l'ho detto già prima, quindi non ne vogliamo avere di più di quintali. Quindi vogliamo portare i turisti nelle Marche per assaggiare il tartufo, ma non per assaggiare il tartufo, per dimostrare quale grande regione abbiamo, non dal punto di vista geografico, ma dal punto di vista ambientale, dal punto di vista storico-culturale, dal punto di vista della tradizione, dal punto di vista del carattere delle persone. Perché anche noi marchigiani non dobbiamo cambiare, dobbiamo rimanere marchigiani, anche se questo difetto ce lo imputano, vogliamo mantenere questo difetto di marchigiani veri, legati al territorio, orgogliosi di appartenere alle Marche. Sant'Angelo. Sant'Angelo vuole raccontare il tartufo delle Marche e vuole raccontare questo nuovo progetto nato a gennaio 2017, chiamato tartufo tutto l'anno. Per portare i turisti bisogna però anche che ci siano le strade, ci sono quelle immateriali che sono della comunicazione, poi ci vogliono quelle materiali, quelle con cui raggiungere questo splendido introterra. La ringrazio per questa domanda provocatoria, perché mi aiuta a concludere con una mia convinzione che se non sarà realtà continuerà ad essere un'ostinata convinzione fino a quando non sarà realtà. Mi riferisco a quella che io ho battezzato, la nuova strada del tartufo, l'ex Fano Grosseto. Per dire che cosa? Per dire che il tartufo ce l'abbiamo noi nelle Marche, però il tartufo è un grande prodotto anche del centro Italia, quindi delle vicine Umbria e Toscana. Quindi la Galleria della Guinza, collegata all'Ei45 e collegata alla provincia di Pesolo attraverso il passante di Mercatello, non può che essere il primo tratto della nuova strada del tartufo che ci aiuta noi marchigiani di uscire dal regionalismo, non dal provincialismo che ci hanno rimpoverato, per uscire dal regionalismo e cominciare a ragionare come regioni autonome naturalmente. Partiamo da una realtà vera qui. Quindi non vendiamo solo la proposta di un progetto, ma riusciamo quest'anno a dire che un grande passo avanti è stato fatto, perché il Ministero delle Infrastrutture ha impegnato 200 milioni di euro, proprio per il tratto che andrà dalla E45 all'uscita di Mercatello sul Metauro con la messa a norma della Galleria. Siamo contenti? No, però siamo contenti del primo passo, perché il primo passo costringerà e convincerà la politica a fare tutto il resto. Per tornare alla mostra, tanti anche gli show cooking e gli chef protagonisti, tra loro anche Andrea Marzoli di Isola del Piano, che di recente ha stupito tutti al Salone Mondiale del Turismo di Siena con la presentazione di Soffio d'Autunno, un piatto offerto anche in questa occasione, in abbinamento ovvio ad un ottimo vino del territorio. Questa qui è una versione precedente a quella del tartufo bianco, perché ancora non è periodo. Comunque abbiamo un prosciutto stagionato di maiale, battuto al coltello, una cubettata di tartufo nero, una salsa di acciughe e una cialda di pasta soffiata, che sono degli spaghetti. Questo piatto è stato creato, diciamo così, pensando un po' a tutta la regione, quindi partire dalle nostre colline, dove si trova il tartufo, fino ad arrivare al mare con l'acciughe, insomma. Gianmori Sorciari, sommelier dell'Ais, di Urbino Montefeltro, ci dice, per esempio, cosa possiamo abbinare, quale vino possiamo abbinare a questo piatto e più in generale con il tartufo. Sì, certo. Col tartufo va sicuramente considerata l'estrema eleganza e la personalità che non va mai sovrastata con il vino, quindi presentiamo in questo caso un'eccellenza regionale, un incrocio bruni, un vitigno riscoperto, nella quale ha le caratteristiche ideali, quindi c'è questa note molto minerali, sapide, che non va a contrastare assolutamente le caratteristiche del tartufo. Dunque non resta che raggiungere nei weekend dal 7 al 29 ottobre Sant'Angelo Invado e lasciarsi stupire dal tartufo in tutta la sua bontà e bellezza. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS